Bene, qualche riflessione, qualche suggestione, certo non è che si possa fare molto, ma penso che la cosa che vorrei fare subito è ricordare a tutti quando, quasi tutti insomma, avranno fatto sicuramente l'esperienza di essere stati nel proprio paese, un paese diciamo affine alla propria famiglia dove una volta all'anno di solito succede che c'è la festa del santo, le giostre, le luminarie, la banda che suona e la processione, è un evento molto attraente, si fa festa, si ricorda con grande affetto quel momento e quelle giornate, però tutti ricordano che quell'esperienza era un'esperienza effimera, durata tre giorni, c'era grande festa, si stava tutti in piazza, si faceva tardi la sera, però finiva tutto dopo tre giorni e non rimaneva più niente di quell'esperienza, si doveva aspettare un anno perché poi quell'esperienza si sarebbe rinnovata. Tutto questo assomiglia molto, almeno a me, forse anche a voi, all'esperienza del salone o del fuori salone il mobile, questi tre, quattro giorni di grande festa, di grande, diciamo, e intensa attività e di accumulo enorme di creatività e di impegno anche nella comunicazione, pensiamo a tutto quello che viene fatto, e il fatto che però da 25 anni succede tutto questo a Milano e questa grande quantità di creatività e di investimenti non ha mai lasciato una minima traccia nella nostra città. Tutto questo alla fine dei tre giorni, quattro giorni, tutto questo finisce e non lascia niente, proprio come nelle grandi feste di paese. Ora, questa è una riflessione importante perché ci fa capire la difficoltà che ha questa città di riuscire a valorizzare le quantità di energie, di persone anche, che in tutto sommato gravitano all'interno di questa... è una storia antica quella di Milano che ha l'incapacità di valorizzare o di utilizzare nel senso buono della parola, i valori e le cose che possono passare, anche se tutto ciò che passa intorno al fuorisalone, sappiamo benissimo, è un po' di tutto, cioè i valori sono relativi, ma c'è comunque una grande, dicevo, quantità di energia che tutto sommato potrebbe essere veicolata. E se è vero quello che continuano a dirci, a raccontarci che il fuorisalone è una pallida rappresentazione di quello che sarà l'Expo, questo ci preoccupa molto, preoccupa molto tutti, perché se sarà così, e dopo l'Expo rimarrà questo vuoto impressionante che naturalmente non è mai stato invece così in altri luoghi, se tutti sanno che la Torre Eiffel dopo il famoso Expo dell'inizio del secolo è rimasta lì, Rania ancora a rappresentare, a celebrare ed è stata continuamente caricata di valori e significati per tutto un secolo, quindi non è che non si può lasciare delle tracce che possono essere in qualche modo poi valorizzate nel tempo. Ecco, questa è la più grossa preoccupazione che chiunque, addetto o non addetto, nella città di Milano può sicuramente sentire come un bisogno, come una necessità e come qualcosa che ci scappa dalle mani ogni giorno, ogni occasione. Cioè, noi dagli anni 60 abbiamo sempre chiesto, noi dico alcuni di noi, abbiamo sempre chiesto che si potesse avviare un processo che io ho chiamato spesso e volentieri anche nei miei libri, quello dell'abitare la città, cioè di quello di spostare l'attenzione da usare la città a abitare la città. Si usa la camera d'albergo, si abita lo spazio della nostra casa. Questo vuol dire abitare, vuol dire riuscire a intervenire nella città connotando di valori e di significati i luoghi in che noi viviamo. Questo processo è stato avviato all'inizio degli anni 60 da alcuni di noi, poi è scomparso e verso l'inizio degli anni 80 è stato ripreso da una serie di personaggi che ci hanno un po' truffato, tutti avranno sentito parlare, di una disciplina che nasceva all'inizio degli anni 80 che si chiamava arredo urbano, c'era l'assessore all'arredo urbano e nelle università si sono aperti i dipartimenti dell'arredo urbano, ma questo arredo urbano che cos'era? Che cosa ha dato? Il risultato di questo arredo urbano lo vediamo anche nella stessa Milano, dopo tanti anni non abbiamo ancora un sistema di illuminazione coordinato, ma nemmeno quello si è riuscito a fare, cioè non si è riuscito nemmeno a fare quello che in modo dispregiativo, io ho sempre parlato di fornitura stradale, cioè dissuasori di sorsta, paletti, porte rifiuti e cose del genere, tutto molto lontano da quello che è il discorso dell'abitare, cioè di quegli elementi, di quella progettualità artistica, architettonica, di design, eccetera, delle varie discipline che in qualche modo avrebbero dovuto contribuire all'identità della città, alla crescita della città e a realizzare questa mitica, diciamo, almeno per me, condizione di entrare in una dimensione più abitabile di quello, al punto tale che già dall'inizio degli anni 60 usavo uno slogan che era quello abitare e essere ovunque a casa propria, per dire che bisognava in qualche modo rompere anche proprio il fronte tra lo spazio privato e lo spazio pubblico. Ora tutto questo è ancora un problema aperto, tutto questo è ancora un problema di cui si sente il bisogno, ormai anche nelle facoltà di architettura, di design, si incomincia a parlare di un design urbano, si incomincia a capire che bisognerebbe in qualche modo orientare la propria attenzione non più nella costruzione degli edifici e forse nemmeno più tanto nella definizione di migliaia e migliaia di oggetti quasi sempre fino a se stessi, ma a cominciare a pensare a una progettualità che è quella che ci serve per poter abitare questi spazi, perché noi non abitiamo soltanto all'interno dal nostro spazio domestico, ma poi usciamo, entriamo e interagiamo con la città. Tutto questo è un grande tema che però non è ancora stato affrontato, tant'è vero che per affrontare questo tema ci vorrebbe qualcuno che dicesse per la prima volta che questo non è un tema prettamente disciplinare, non è roba per gli artisti, per gli architetti, per i design, è un tema che riguarda diverse categorie che va dall'antropologo al sociologo allo scenografo eccetera eccetera, quindi è un tema abbastanza complesso. Questo tema hanno tentato di affrontarlo negli anni 60-70 gli artisti, perché c'è stato un momento che gli artisti facevano delle opere nella città, ma questo è stato un primo gesto che era carico di equivoci, perché l'artista faceva opere nella città, nella dimensione di opere nel sociale, ma nel sociale è una cosa, per il sociale è un'altra, nel sociale voleva dire portare delle cose che prima ieri erano una galleria, riportarle in uno spazio urbano, ma lavorare per il sociale vuol dire fare dei progetti che servono a far capire alla gente cosa fare, come fare, come rapportarsi con l'ambiente e questo è stato uno dei tanti problemi e dei quivoci degli anni 60-70 in quanto la società non era preparata, come non era preparata alla domanda che l'architetto negli anni 70 faceva ai gruppi sociali dicendo cosa volete nel vostro quartiere e loro rispendevano sempre le stesse cose, cioè non erano preparati, non si può chiedere alla gente cosa volete, bisogna prima preparare le persone a capire e a prendere la consapevolezza del rapporto che loro possono avere con lo spazio e con l'ambiente, quindi questo è un processo che ancora non è mai stato innescato, io continuo da 40-50 anni forse a cercare di raccontarlo e a rappresentarlo anche con le mie opere naturalmente, però ne faccio vedere una sola perché non voglio annoiarvi per farvi capire com'è la situazione oggi rispetto a quella degli anni 60, ve la racconto perché non si vede tutto bene. Va bene, negli anni 68 c'è stata una manifestazione che si chiamava Campo Urbano dove a Como sono stati raccolti intorno al problema della città e dell'arte nella città diversi artisti che andavano da Bruno Munari a Bai al gruppo dei Cinetici e a Munari dicevo appunto a Giuseppe Chiari, insomma Fabro, tanti artisti. Io ho fatto un'azione che è quella di aver coperto all'interno di una strada la parte centrale della strada, in un'operazione effimera, cioè ho fatto una grande struttura per poter dimostrare alla gente che una strada quando è liberata dal traffico, cioè diventa isola pedonale, quella strada non è semplicemente liberata e quindi va bene, tutto finisce lì. Quando uno sottrae qualcosa da uno spazio, se io tolgo tutte queste sedie, io ho uno spazio libero e disponibile, magari mi viene in mente di farci qualche altra cosa e quando si toglie il traffico da una strada o da una piazza non è che tutto deve rimanere disponibile soltanto a quello che è la speculazione del sistema commerciale che se ne appropria, perché la città è fatta di tante cose, informazione, cultura, spettacolo, attività ludica, eccetera, 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 si può caricare quel luogo svuotato di altri valori e significati. Questa è stata l'installazione che ho realizzato nel 68 e che è ancora un'installazione assolutamente attualissima, perché se oggi voi andate in via Polosarpi, vedete l'ultima isola pedonale fatta dal comune di Milano e vedete come è stata fatta e perché è stata fatta per consentire a tutti i commercianti di via Corso Carivaldi, che non sono commercianti normali, sono commercianti all'ingrosso, di poter caricare e scaricare liberamente tutta la mattina dalle 8 alle 12 e mezza per rifornirsi continuamente di questi negozi. Devono rifornirsi sempre, quotidianamente, molto spesso, perché i negozi sono piccoli e sono negozi non dove uno va a comprarsi una mutanda, va a comprarsi 10 balle di mutande, cioè ci vanno tutti i negozianti d'Italia, vanno lì a rifornirsi, come quando si va al porto di Hamburgo o di Napoli per rifornirsi dai grandi grossisti e ci vanno appunto i famosi negozianti, i cosiddetti dettaglianti. Questa è l'ultima isola pedonale che ci è data da vedere. Per l'ennesima volta, in modo ancora più vistoso di quello che io avevo osservato nel 68, le isole pedonali diventano dei luoghi dove si sottrae del traffico automobilistico per lasciare tempo, spazio e possibilità di uso da parte del sistema commerciale. Questo per dire un esempio, chiaramente il giorno cui farò un corso specializzato su questo tema, vi potrò trattenere per diverse settimane per raccontarvi tutti gli esempi che ho raccolto, trasformato e in qualche modo, ma vorrei fare una seconda piccola osservazione perché mi sembra di capire che qui si parli un pochino dei mali o dei beni, delle cose buone o delle cose cattive, forse più cattive, della città di Milano. L'altra cosa che mi preoccupa molto negli ultimi decenni è che Milano non produce più cultura, cioè forse nessuno se ne è accorto, perché in effetti di mostre se ne fanno tante, ma mostre di ricerca non se ne fanno più, cioè se io decido di fare una mostra dedicata alla seduta, al naso, ai capelli, insomma un tema, un qualsiasi tema, datemi un tema qualsiasi e io vi farò una mostra con cento pezzi, uno più bello dell'altro su questo tema. Come si fa? È facilissimo, abbiamo una riserva di opere strepitose, un secolo di autori che nel secolo scorso ci hanno prodotto una quantità enorme su tutte le tematiche di questa terra, quindi se io come curatore decido di fare una mostra sul tema pretestuoso o non pretestuoso, io nel giro di 15 giorni vi riempio uno spazio di una mostra di cose bellissime e nessuno potrà dire che io ho fatto una mostra schifosa, è una mostra sicuramente affascinante, ci sono pezzi che vanno da quelli di Picasso fino a, non so, per dire a Sozza, per fare di noi cosa ci vuole, basta fare una telefonata a un museo e farsi dare il pezzo o all'archivio storico di uno o dell'altro, quindi questa è l'attività culturale che è sempre più diffusa ed è sempre più significativo il fatto che queste attività non producono nulla, non producono nessuna ricerca, non c'è dietro nessun tipo di ricerca e questa mancanza di ricerca è abbastanza un fenomeno diffuso, io qualche anno fa quando ancora dirigevo un dipartimento all'Accademia di Brera di progettazione artistica ho fatto l'esperienza più negativa della mia vita portando degli studenti al famoso salone satellite, quello dove ci vanno gli studenti, stiamo parlando sempre del salone, gli studenti di tutte le università arrivano e i poveri studenti piangevano, erano tristi, erano mestri perché praticamente rispetto a tutti gli altri io non li avevo portati con degli oggetti finiti da essere messi lì in vetrina perché chissà mai qualche imprenditore arriva e dice ma beh io questo te lo produco, io li avevo portati con delle ricerche quindi loro non avevano questi stand pieni di oggetti finiti e pronti per essere messi sul mercato, quindi erano in una situazione molto più all'apparenza, molto più povera, ma questo vi fa capire come le nostre scuole, le nostre università ma non solo le nostre ma anche le altre portano lo studente sempre di più verso un discorso che non va verso la ricerca ma va verso quella che si chiama ricerca di un possibile utilizzo e di possibile emissione in quello che è il sistema della produzione del lavoro, è quello che ultimamente molte università sono anche al limite costrette a fare, si fanno dei corsi dove c'è dietro il corso lo sponsor che dà i soldi per poter sostenere la cosa per cui il corso è finalizzato a un prodotto ben preciso. Ecco quest'altra problema che è quello della mancanza della ricerca è anche un altro tema che tutto sommato di cui Milano soffre in questi ultimi tempi e che invece bisognerebbe in qualche modo cercare di superare. Queste sono due mie rapide osservazioni, per non annoriarvi più di tanto, ma che sono sicuramente osservazioni ormai così consolidate rispetto a quello che si vede, che sono sicuro, se non è così qualcuno alzi la mano, sono sicuro che a voi tutti è chiaro questo fatto, a voi tutti è chiaro il fatto che praticamente ci siano questi problemi rispetto, quindi non è soltanto una questione di salone del mobile, è questione di una cultura che si sta perdendo, che non c'è più, di cui però molti probabilmente sentono ancora il bisogno di fare delle ricerche, pensare ad una città, pensare a una disciplina che si occupa dell'abitare nella città, laddove quasi tutte le università si occupano soltanto di pensare alla costruzione di edifici sempre magari più belli e spettacolari, o di quintali e di scuole di design che portano lo studente verso la produzione e la definizione degli oggetti, magari anche interessanti perché soprattutto innovativi sul piano tecnologico, che è quello che praticamente in qualche modo riscatta la proliferazione di tanto design. Molte cose a livello tecnologico hanno un loro valore, ma molte altre sono fine se stesse. Allora quello che a noi manca sicuramente è un'attenzione nei confronti della città in termini di progetto rivolto al tema dell'abitabilità e questo è un tema che i vari gruppi sociali negli anni 60 e 70, a Milano nel 72-73 dirigeva una rivista che si chiamava Brera Flesch, che contava 45 gruppi sociali legati a casi occupati, circogiovanili eccetera eccetera, 45 ed era quindi un laboratorio molto intenso in questo senso, oggi ci sono questi fermetti, benissimo ma bisogna assolutamente andare verso quella direzione, secondo me una direzione che non è mai stata effettivamente sviluppata più di tanto e che prima o poi lo sarà, anche perché noi basterebbe superare le Alpi e andare oltre le nostre frontiere e vedere che in effetti invece in altri luoghi molte di queste cose un'attenzione se non altro nei confronti dell'ambiente urbano di un certo tipo esiste, mentre da noi no.